Le frontiere dello spazio, per la prima volta tre italiani parteciperanno ad una missione suborbitale con Virgin Galactic. Sono due piloti dell'aeronautica ed uno scienziato del CNR. Giorgio Specchia. La navicella si sgancia dalla nave madre, inizia l'ascesa verso la linea di Kármán. 100 km dal suolo terrestre, oltre quel confine, inizia lo spazio. A bordo, tre italiani, i primi europei su un volo suborbitale. Una missione nata dalla collaborazione tra aeronautica, militare e CNR, l'apertura di nuove possibilità di ricerca. I nostri esperimenti a bordo vanno dallo studio di combustione, su nuovi materiali, sulla rilevazione di radiazioni e su nuovi sistemi di propulsione. Lo spazio plano della Virgin Galactic finora è stato utilizzato solo per scopi turistici. Adesso sarà il luogo per esperimenti mai provati prima, anche dal punto di vista medico. Spaziando dal monitoraggio dell'attività cardiaca, al fine di studiare gli effetti delle accelerazioni, ho ancora la capacità di predire l'eventuale sviluppo dei segni e sintomi della motion sickness, ovvero del mal di spazio. Un volo di circa quattro ore, il decollo nel Nuovo Messico, a partire dal 25 settembre. La missione Virtute 1 apre nuove possibilità anche per la cosiddetta Space Economy. Per questo lo sguardo del comandante della missione è rivolto ai giovani. Sarà un volo breve, come il primo volo dei fratelli Wright nel 1903, ma dischiuderà un orizzonte di nuove opportunità da cogliere per costruire un futuro con loro come protagonisti. Grazie! 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 Grazie!